Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico sbaglio. Oggi vi racconto una storiella molto interessante, la storia di un tabaccaio. Sì, avete capito bene, oggi parleremo di un tabaccaio. Per molti è considerato il nemico numero uno, ma se avrete pazienza di ascoltare questo breve video, questa breve storia, fino alla fine, vi ricrederete. Il tabaccaio in questione io non lo conosco di persona, è un mio follower. Me ne aveva già parlato anche Giorgio Acheretto, è un signore che, vi dico il suo nome sui social, è Zenstyle, ha trovato una soluzione perfetta per riuscire a convertire e a promuovere il nostro settore. Ma andiamo un attimo indietro, facciamo un attimo marcia indietro. Io da anni che faccio parecchie battaglie in questo settore, nonostante con questo settore non ho nulla da condividere se non puramente passione, non ho interessi commerciali in questo settore e chi mi segue lo sa, da anni ho proposto diverse soluzioni, ho portato avanti diverse battaglie, alcune con successo, altre meno, per riuscire a cercare, a modo mio, di migliorare questo settore e rendolo sempre più user friendly, come piace dire a tanti di voi, più accessibile ai nuovi vapors o coloro che vogliono abbandonare le tanto odiate puzzone. Zenstyle ha trovato una soluzione geniale, che io appunto ci tengo a sottolinearla, perché molte volte per questa mia iniziativa che ho cercato di promuovere negli anni sono stato deriso, sono stato anche attaccato, la soluzione che ho trovato è semplicissima. Tu vieni nel mio negozio, vi premetto che lui ha due tabacchini in quel di Pescara, tu vieni nel mio negozio, perché a fianco al tabacchino, o all'interno meglio del tabacchino, c'è anche un angolo del vaping, da quello che ho capito anche ben fornito, nel momento in cui ti reghi nel mio negozio, io ti applico l'accomodato d'uso gratuito. Che significa? Tu vieni, hai voglia di smettere di fumare, io ti do, incomodato d'uso gratuito, una pod mod, in questo caso la Wenax di Geek Vape, lui un ottimo prodottino, lui lo considera anche un ottimo prodottino, e tu a fronte di questo comodato d'uso gratuito ti compri i liquidi. Soluzione perfetta, soluzione perfetta. Dati alla mano, perché lui lo fa ormai da parecchio tempo, è una formula che funziona, è una formula talmente semplice che funziona. E qui mi rivolgo a tutti voi bottegai, come vi definite ormai, perché non avete mai pensato e mai attuato una soluzione del genere. In più, vengo anche a parlare di usa e getta, ma non perché voglio stare lì a difendere o a demonizzare lo stesso oggettino. Lui cosa fa? Nel momento in cui una persona si presenta a lui e dice senta, volevo questo use e getta, ho visto che ci sono questi use e getta. Lui, 9 casi su 10, quindi una percentuale altissima, con la sua forma di comodato d'uso gratuito, converte semplicemente da l'use e getta a un sistemino che costa di meno, consuma di meno e rende anche meglio. Chapeau, chapeau, chapeau. Quindi, ragazzi, spero che questa storia sia di esempio a tanti di voi che siete in questo settore, che con questo settore ci mangiate. Io la mia l'ho detta, io sono tato, se avete voglia di ascoltare altre storie e anche tanto altro sul mondo dello svapo non vi tocca che iscrivetevi al canale e se è un video attivate la campanellina, lasciate il classico e consueto pugno di like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!